Loro hanno già il secondo vaccino, hanno dai tre mesi e tre mesi e mezzo, sono tanto tempo che sono arrivati qui, più ne abbiamo altri anche più grandi, però arrivati da poco, quindi ancora devono completare tutte le vaccinazioni. Di tutti i colori li abbiamo e sono tutti bellissimi. Rossi, tigrati, bianco e neri, insomma, sono gattini davvero di tutti i colori, quelli ospitati al canile di Arezzo in attesa di una famiglia. Cucciolati e abbandonati in vari angoli delle campagne aretine, salvati ed accolti dall'EMPA, che però in questo momento sta vivendo una vera e propria emergenza a causa dell'elevato numero di mici accolti. Siamo in piena emergenza perché i gattini sono tantissimi. Non abbiamo mai avuto così tanti gattini in un recinto insieme perché noi solitamente i gatti li teniamo in quarantena in delle gabbie dove completano tutta la profilassi vaccinali e poi li mettiamo nel recinto insieme a altre cucciolate perché tanto sono tutti sani, vaccinati, sverminati, però così tanti insieme. Ora al momento sono 12, prossima settimana ne entreranno altri tre perché faranno il richiamo del vaccino e quindi sì, cerchiamo tante adozioni. L'appello, come sempre, però è alle adozioni responsabili e consapevoli. C'è la sterilizzazione obbligatoria sia del maschio che della femmina, non importa se uno li tiene in appartamento perché a parte il maschio in appartamento non castrato è in bocca al lupo. E comunque è anche un discorso sanitario per il gatto, sta meglio se è castrato e se la femmina è sterilizzata.